Ciao a tutti carissimi amici e amiche e parlo a bassa voce perché non sono sola in casa. A proposito di bassa voce, ho visto un commento sotto un video ASMR di un tizio che mi scriveva ma perché parli a bassa voce? Si sente pochissimo, cioè vabbè, non aveva neanche capito di trovarsi in un video ASMR, vabbè. Allora, voglio parlarvi di due cosine, ho giusto dieci minuti, non di più, perché sto per partire per Bologna. Quindi passerò anche dal fiume Secchia e anche dalle zone leggermente alluvionate perché qui in Emilia la situazione non è così grave. L'unico pericolo per l'appunto è quello delle frane, quindi spero che non mi caschino pezzi di montagna addosso mentre procedo per arrivare a Bologna, vabbè. Volevo parlarvi però dei vari tipi di follower che ogni youtuber ha. Allora, ci sono quelli da me preferiti, che sono quelli che mi seguono da tanti anni. Io ne approfitto per salutarli, Bona, Enrico, Mariangela Ambrosone, ma tantissime altre. E poi ho anche un po' problemi di memoria, sapete, ormai ho una certa età. E ce n'è una veramente carina, più di una di cui non ricordo il nome, perdonatemi. Questi sono soltanto tre di quelli che mi seguono, di quelli che mi seguono. Mi sono messa così perché, vedete, c'è un riflesso, c'è un riflesso. Così sono più cessa, però non c'è questo riflesso qui, vedete? Allora, niente, quindi mi devo mettere così anche se sono più cessa. E quindi vi dicevo, Anna Maria Giordano anche e tante altre che mi seguono con affetto da anni e commentano pubblicamente, sono tanto carine. Ci comprendiamo alla perfezione, anche loro delle volte accendano a loro problemi personali che sono anche i miei ed è bellissimo il rapporto che ho con loro. Poi ci sono degli altri che mi seguono anche su Instagram e delle volte mi scrivono su Direct. E anche lì va bene perché ci sentiamo una volta ogni tanto. Un carissimo amico, Dani, ciao Dani, che mi segue da anni in modo veramente carino. Anche io prima che io stessi su Instagram ci scrivevamo sulla Gmail, ma una volta ogni tanto, a periodi, e io sono felicissima. Invece poi ci sono stati degli altri, purtroppo, che sono stata costretta, mi dispiace tantissimo anche soltanto dirlo perché io ci soffro per queste cose qui, sono stata costretta proprio a bloccare e eliminarli. Mi dispiace. Allora, per quanto riguarda gli uomini, un uomo etero, anche molto bello, della Val d'Aosta, posso dire tanto, voglio dire il nome, non lo dico. E' molto interessato all'esoterismo. Dunque, vabbè, lui aveva dei problemi a livello mentale, me l'aveva detto subito. Alla fine era diventato uno stalker, praticamente. Era diventato uno stalker e quindi sono stata costretta. Si arrabbiava se non gli rispondevo, gli avevo dato anche il WhatsApp. Aveva cominciato ad arrabbiarsi, insomma, per cui sono stata costretta, praticamente, a bloccarlo. Mi dispiace tanto, lo penso ancora con affetto e comprensione, però non ho potuto fare diversamente. E poi, alcune donne, mi dispiace tanto, che sono stata costretta a bloccare e a eliminare, perché magari inizialmente erano stalkers. Io le avevo bloccate, poi loro mi hanno riscritto pregandomi di riammetterle, insomma, alla mia amicizia. Quindi le ho riprese, però poi loro, insomma, sono... Non erano, sono, perché sono vive per fortuna, ma sono brave persone, però sono molto, molto combattive, delle volte anche sui temi sociali, politici, per cui mi volevano coinvolgere nella loro rabbia. Io ho già di mio i miei problemi, per cui non potevo, anche sui social, stare a battagliare insieme a loro. Poi si mettevano nei casini, specialmente una di queste si metteva nei casini di gruppi, anche di un certo rilievo si metteva nei casini e voleva coinvolgere anche me in questi casini, ecco, di gruppi di rilievo con i quali lei litigava, gruppi di un certo rilievo nei quali non ci sono ancora, quindi non voglio, insomma, fare brutte figure, ecco. E quindi sono stata costretta, mi dispiace tanto, ma non ho potuto fare diversamente. Poi cos'altro dire? Niente, niente, quindi... Niente, così, magari poi tornerò su questo argomento. E niente, quindi... E che sono un po', sapete, un po' agitata, perché pensando di passare, insomma, da queste zone che hanno avuto questi problemi, mi dispiace tanto. E che l'umanità non si rende conto che anche queste inondazioni è il cielo che piange. È il cielo che piange per la cattiveria umana che sta raggiungendo davvero dei livelli terribili. Io sentivo una canzone degli anni settanta, California Dreaming, dei Mama and Papas, ieri. E dicevo, ma tutti quegli ideali degli anni settanta, di amore, di pace, di fratellanza universale, ma dove sono andati a finire? Allora, anche chi non è un politico, chi non è in posizione di potere, però perlomeno la comprensione è la gentilezza reciproca. Vedo che non c'è più. E se una persona è gentile con un'altra, magari questo ti guarda così, come dire, ma tu da che mondo vieni? Da dove vieni? Ma chi sei? E niente, quindi sono veramente dispiaciuta, non preoccupata, dispiaciuta. Io tra dieci, vent'anni non ci sarò più su questa terra. Mi fa anche piacere, sinceramente, vi dico perché. Io, quando ero giovane, ero in un mondo diverso, con valori diversi, e si viveva meglio, e sinceramente non lo capisco questo mondo, non lo capisco, per cui sono contenta di avere già una certa età, e sono contenta di non esserci più quando arriverà il mio momento. Ecco, tutto qui. Nel frattempo, come sapete, io vivo isolata, circondata da persone che amo, che mi amano, poche persone, e poi ci siete voi, ci siete voi che mi capite, ci siete voi che guardate i miei video, che la pensate come me, che la pensate come me. Devo dire che sul canale esoterico forse ho dato, anni fa, un'immagine un po' diversa da quella che io realmente sono, perché poi qualche iscritto e iscritta che mi ha conosciuto di persona ha detto, ma tu sei buonissimo, sei bravissimo, non sei quel, pensavamo che tu fossi diversa, che fossi più cattiva, no, invece è buonissimo, vabbè, sì. Però guardate, io quando le persone, ci tengo molto la mia dignità personale, per cui quando le persone cercano di abbattermi sulla mia dignità personale, io allora non rispondo più di me, ecco, non rispondo di me. E purtroppo è accaduto in passato che qualche persona approfittando, abusando del suo potere, ha cercato di, come dire, di abbattermi psicologicamente, umiliandomi, offendendomi, dicendo che faccio pena sui social. Io questo non lo ammetto. E anche altre cose bruttissime che non riesco a dimenticare ancora adesso, a distanza di cinque anni. Per cui ecco che ho maledetto questa persona, eccetera. E gli ho arrecato anche del male, perché funzionano queste cose qua. Adesso non mi interessa più. Però mi pento di quello che ho fatto, perché avrei dovuto assumere il carattere che ho adesso, cinque anni fa. Però il mio percorso spirituale è servito. È servito proprio a farmi capire buddisticamente che non ce la dobbiamo mai prendere per quello che ci viene detto da persone che non hanno le nostre stesse vibrazioni. Per cui non ci si può capire. Dobbiamo cercare di sfuggire al dialogo con alcune persone. È vero, la Nunege dice che dobbiamo andare d'accordo con tutti, che siamo tutti fratelli e sorelle, sono d'accordissimo. Però con pochissime persone. Io ho trovato soltanto due o tre persone con cui non mi intendevo nella mia vita. Due, due persone. Due donne con le quali non ci può essere intesa. però con tutti gli altri alla fine. È sempre andata bene. Siamo rimasti sempre in pace, d'accordo, fino all'ultimo. Alcune persone le ho perse nel mio tragitto di vita. Alcune sono morte. Altre io ho viaggiato molto, per cui non le ho più sentite, però penso a loro con affetto. Mi sono lasciata andare, ma può succedere, nella vita di una persona, quando troviamo gente che non è per niente in connessione con noi, purtroppo. Con cui non c'è possibilità di intesa. Perché io sono una anche che perdona, che lascia perdere, ma quando la cattiveria è reiterata e colpisce la dignità personale, io su questo non transigo. Io su questo non transigo. Va bene, quindi io mi metto in viaggio sperando di tornare sana e salva da voi, sperando di tornare sana e salva da voi. E intanto per incoraggiarmi a questo viaggio che sto per fare, con l'alluvione e la pioggia, ho indossato questi due bellissimi braccialetti che mi ha regalato una carissima amica. Melissa, ti voglio tanto bene, cara. Che mi ha regalato una carissima amica che mi segue con affetto. Lei aveva un canale di cartomanzia bellissimo. E adesso non ci sta facendo più video perché si sta dedicando agli studi, agli studi proprio personali. E quindi esoterici e non. Ecco, quindi è molto impegnata. Io le voglio un gran bene e le auguro una buona vita e la ringrazio perché io penso con affetto a tutte le persone, sia a quelle che mi hanno fatto questi bei regalini ma anche a quelli che non mi hanno fatto regalini. Così, li ripenso e ci penso a loro e li benedico, e li benedico perché ho trovato tanta brava gente nel mio percorso terreno, devo dire, tante brave persone. E adesso quello che mi dispiace è che vivendo isolata non ho più a che fare con tanta brava gente perché la maggior parte dell'umanità è buona e pochi sono i cattivi, però quei pochi sono veramente terribili. E quello che vi dico è cercate di non avere dialogo con loro. Questo non vuol dire eh, ma tu bisogna andare d'accordo con tutti. Sì, ma tanto i cattivi sono pochissimi. Quelli veramente cattivi sono pochi, però sono molto nocivi. Quindi noi possiamo benissimo fare a meno di loro. Un bacio, vi metto in viaggio. Ho levato anche lo smalto perché era sbrecciato. Ho detto, ma sì, tanto. Ciao, ciao.